La Befana è una festa molto sentita in ogni angolo della Maremma e della Miata. Da una parte la vecchietta che dispensa carbone e dolciumi dentro la calza, dall'altra quella che invece si rifà alle tradizioni contadine con le squadre di Befana e Befanotti che raggiungono i poderi con i loro canti di questua e compiono i riti del fuoco per esorcizzare il nuovo anno. Ieri, grande evento in Piazza Dante a Grosseto con la Befana benefica del Comitato per la vita planata dal Palazzo della Provincia con l'aiuto dei Vigili del Fuoco e con la vendita delle calze per raccogliere fondi per l'acquisto di apparecchiature tecnologiche per la radioterapia del Misericordia di Grosseto. Il pomeriggio è proseguito con il presepe vivente di Roselle scortato dai butteri della Maremma e dal gruppo folcloristico dei briganti di Maremma. Quindi la visita in ospedale della simpatica vecchina ai bambini della pediatria e a seguire la passeggiata podistica lungo le mura. In serata ai poderi di Montemerano nel comune di Manciano si è rinnovata la tradizione del borgo con un giro nelle abitazioni del paese gustando cibi, dolci e bevande e ballando e cantando fino a mattino.